Fulvio Felegara, in attesa della definizione della data, si avvicina comunque l'appuntamento con i referendum popolari per il lavoro che vedono la CGL in prima linea? Assolutamente sì, è iniziata la nostra campagna elettorale, stiamo chiedendo a gran voce al Governo di fissare la data per le elezioni, per le votazioni. Ormai la Corte Costituzionale ha reso noto le motivazioni con cui sono stati approvati i nostri due referendum, non ricordo, sugli appalti e sulla riforma, sulla abrogazione dei voucher a partire dal 26 di gennaio. Da lì decorrono i 60 giorni entro i quali bisognerà fissare la data del voto. Noi stiamo ricordando a tutti che sono già passati 26 giorni da quella data e il Governo ancora non si è occupato di fissare la data. È un'assenza grave, noi chiediamo a gran voce che venga fissata una data per dar voce agli italiani, per fare in modo che si possa finalmente decidere e poter discutere dei temi che abbiamo posto. Temi molto importanti, perché abbiamo riportato finalmente già un grosso risultato, un merito che posso, senza modestia, scrivere all'azione della CGL. e abbiamo riportato il tema del lavoro al centro del dibattito. Si è ricominciato a parlare di voucher in questo Paese e non se ne parlava più. Abbiamo visto un'esplosione dell'utilizzo di questo strumento, soprattutto negli ultimi due anni. Abbiamo visto anche i dati della Liguria, che ha avuto più di un raddoppio rispetto all'utilizzo dei voucher. Abbiamo visto una diffusione un po' in tutti i settori, anche nella pubblica amministrazione, anche nel settore del terziario, dei servizi, negli alberghi. È diventato purtroppo uno strumento di precarietà e di sostituzione del lavoro normale, del lavoro stabile. Quindi questo è uno strumento che va cancellato così com'è. Bisogna tornare a una normativa che chiarisca come ci si deve comportare con i lavori meramente occasionali. Ed è un tema che abbiamo nella nostra proposta di legge per un nuovo statuto dei lavoratori. Ricordo gli articoli 80 e 81, nei quali ci occupiamo proprio di questo tema. Nel frattempo è giusto che questo strumento, per come è utilizzato oggi, venga fermato, venga stoppato e si torni finalmente a dare un po' di stabilità a chi lavora. C'è poi l'altro tema importantissimo che è quello degli appalti, nel quale noi diciamo che si deve ritornare ad avere la responsabilità solidale in un appalto e in un subappalto. Significa semplicemente restituire un po' di diritti a chi ogni volta che c'è un cambio di appalto, se l'azienda non si è comportata bene e ha lasciato dei debiti o ha lasciato dei diritti non riconosciuti deve trovarsi sempre ad inseguire per provare a recuperare. È una norma di civiltà che dice che l'ente appaltatore è responsabile insolido, ha la responsabilità solidale e quindi ha l'obbligo di controllo. Perché alla fine mettere una responsabilità significa fare in modo che chi appalta si occupi anche di controllare la ditta appaltatrice. In questo modo si ritornerebbe semplicemente a dare un po' di dignità e di diritti a quei lavoratori che ogni tre anni a cambio di appalto o prima se l'azienda va in difficoltà si trovano purtroppo senza una copertura e senza certezza dei loro diritti. Allora chiediamo due cose molto semplici, chiediamo due cose comprensibili. Sono due quesiti che cambiano la vita dei lavoratori in maniera semplice e immediata. Per questo siamo convinti che potranno avere un riscontro positivo, che i lavoratori e le persone a noi vicine non mancheranno di sostenerci. Da adesso in avanti ovviamente eserciteremo tutte le pressioni che possiamo affinché questo tema venga discusso sia all'ordine del giorno, nell'agenda del governo ma anche a livello territoriale. Andremo a chiedere un incontro al prefetto per fare in modo che da ogni territorio parta la voce per poter arrivare al risultato. Inizieremo porta a porta, posto di lavoro per posto di lavoro, la nostra campagna elettorale per informare, per sensibilizzare, per fare in modo che la nostra iniziativa si trasformi in un successo e che gli obiettivi che abbiamo posto con la carta dei diritti diventino più vicini perché poi il nostro obiettivo fine, il fine ultimo e il motivo per cui siamo scesi in campo è quello di avere un nuovo statuto dei diritti di tutte le lavoratrici, di tutti i lavoratori, cosa sulla quale ovviamente non arredriamo di un passo e che vorremmo continuare a perseguire.